E, rimanendo nell'ambito della parrocchia di San Giovanni, passiamo dalla corale più antica, che ha cento e tanti anni, alla corale più giovane, il corretto di San Giovanni, che praticamente è nata insieme dall'anno scorso. Quindi, proprio, saranno bravissimi, ne sono sicura. Merita, buongiorno, grazie a me. Questo corretto è formato dai bambini dell'oratorio, che dall'anno scorso hanno iniziato un percorso musicale insieme, affiancano gli altri cori nell'animazione della messa dominicale, stanno imparando ad apprezzare la bellezza del canto, la responsabilità di avere un impegno come parte attiva all'interno della liturgia, che non è poco. Ci propongono Sarà Natale Se, un simpatico canto che ricorda a tutti noi che se ami, se fai la pace, se devi, se credi, se aiuti un amico, Natale non è solo un giorno, ma dura tutto l'anno. Sarà Natale Se. Tutti abbiamo un compito speciale, ricordare al mondo che è natale. Se mettiamo aria al nostro cuore, saremo angeli che portano amore. E sarà, 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 sarà Natale Se. 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 Grazie.